Ciao, sono Andrea Maderna, state ascoltando Retro Outcast, il podcast di Outcast.it dedicato al retro gaming, con me oggi c'è Andrea Peduzzi, e oggi si parla di The Secret of Monkey Island, perché come avevamo detto nell'ultimo episodio del podcast, il 15 ottobre, che è il giorno in cui pubblichiamo questo episodio, cade il trentennale, perlomeno se internet non mente, perché le informazioni che si trovano su internet sulle uscite di videogiochi di 20 o 30 anni fa sono spesso contraddittorie e non affidabili, però se quello che sono riuscito a reperire non mente, il 15 ottobre del 1990 è il giorno in cui uscì la prima versione di Monkey Island, che era quella per PC a 16 colori, poi da lì a fine anno arrivarono le versioni Amiga Atari ST e PC a 256 colori, che erano abbastanza accomunate, nel senso quella Amiga con la Atari ST, così a occhio e anche da quello che leggo, erano sostanzialmente una riduzione ai limiti grafici di quelle due macchine della versione a 256 colori e poi negli anni è stato convertito su Mega CD, una versione particolarmente brutta, versione portatile, c'è stata la Special Edition che è uscita nel 2009 e tra l'altro adesso a ottobre proprio, ovviamente cade con il trentennale, uscirà il cofanettone con la raccolta pubblicata da, com'è che si chiamano quelli che fanno le edizioni fisiche dei giochi? Aiuto! Così a sucia pelo poi mi hai messo... Limited Run, Limited Run, che tra l'altro non è ancora chiarissimo, nel senso non hanno ancora annunciato la data precisa di uscita e non si hanno notizie certe, nel senso che avevano detto che avrebbe incluso i primi quattro giochi, quindi Monkey Island, Monkey Island 2, Fuga da Monkey Island, scusa, Course of Monkey Island e Escape from Monkey Island, Fuga da Monkey Island, e che stavano trattando con Telltale per avere anche la loro serie, però siccome quei diritti appunto, loro hanno trattato con LucasArts e quindi Disney, i diritti della serie Telltale appartengono a Telltale, immagino se è anche un ginepraio in questo momento a trattare con Telltale, perché Telltale non esiste più e quindi i diritti sono stati scorporati di qua e di là, e quindi le ultime volte che ne hanno parlato non sapevano ancora se sarebbero riusciti a infilarci anche quella. Potrebbe non essere una brutta cosa se non riescono a infilarci. Per me potrebbero togliere anche il terzo e il quarto, però esce una cosa del genere, il cofanetto, figo, con dentro extra, cose varie, comunque sarebbe bello filologicamente averlo completa, diciamo. Tra l'altro stavano anche, una cosa che hanno, non mi ricordo se detto, ho detto fra le righe, ma che secondo me sarebbe veramente il caso di fare, che saranno contenute anche le special edition, ma di vedere se potevano inserire varie versioni dei giochi. Ora, non pretendo che ci siano la versione Amiga, la versione Atari ST, quella Mega CD, però sarebbe carino se ci fosse quella 16 colori, perché nella special edition, che è uscita dieci anni fa, è possibile giocare in modalità classica, premendo F10, passando da una versione all'altra, però è la versione a 256 colori. Non è mai uscita una riedizione di quella 16, che comunque come, diciamo, documento storico sarebbe carino che ci fosse, che esistesse, ecco. È un peccato che non ci sia. Oltretutto, la versione a 16 colori conteneva una gag che è stata tolta poi, in quelle successive, perché c'era un punto in cui se facevi una roba nel bosco ti diceva, ti apri il cuo, ti diceva inserisci il dischetto 16, inserisci il dischetto 132, eccetera, e quella cosa l'avevano tolta perché la gente non capiva, gli telefonava dicendo che cazzo, non ce l'ho io il dischetto 16. Oltretutto, se non sbaglio, è una gag che poi hanno rimesso in Monkey Island 2, o mi confondo? Allora, è una gag che potrei addirittura aver giocato ai tempi della versione a 16 colori, perché comunque non mi suona per niente nuova, però magari invece l'ho giocata in Monkey Island 2, non... O magari c'era comunque in Monkey Island 1, ma messa in maniera diversa, perché io sono sicuro di aver incontrato questa gag, e io sia l'1 che il 2 li ho giocati su Amiga, quindi... e mi ricordo che era una cosa che succedeva nel bosco, però come me la ricordo io era che ti succedeva girando nel bosco, cioè se tu giravi a caso nel bosco, continuando a sbagliare strada, dopo un po' succedeva sta cosa, non succedeva come succede nella versione a 16 colori che era trafficando con un tronco, quindi boh, magari era una versione diversa, magari era nel 2, onestamente non mi ricordo. Sì, in effetti, o magari l'ho giocato in un altro, tipo, non so, in Maniac Mansion, e in un altro gioco è stata ripresa, chi lo sa. Può essere, ma io me la ricordo proprio da Monkey Island, vabbè, comunque c'era questa gag qua che è stata tolta, e quindi insomma, sarebbe carino recuperare la versione a 16 colori anche per quel motivo, ecco, diciamo. Oltretutto, così, ultima spiegolatura prima di cominciare il discorso generale, nella Special Edition, tu adesso ci hai giocato, quando arrivi a Monkey Island dove c'è la testata, nella scima ci sono gli idoli per terra, c'è un idolo a forma di Sam & Max, che è una citazione a Sam & Max che all'epoca del primo Monkey Island non era ancora uscito il primo gioco, però era un fumetto fatto da Steve Purcell che aveva lavorato all'illustrazione di Monkey Island. Nella Special Edition, siccome Sam & Max non avevano più diritti, avevano tolto la statuetta di Sam & Max e avevano messo il tentacolo viola, ma adesso c'è il messo Sam & Max, perché evidentemente hanno negoziato per poterlo fare, deve esserci stato un patch, un aggiornamento e c'è di nuovo Sam & Max se giochi alla Special Edition, così segniamo questa cosa. Incredibile, sì, comunque io tra l'altro non mi ricordavo che ci fosse Sam & Max nella parte dei idoli, è stato divertente trovarli. Infatti sì. Vabbè, comunque, al di là di questa divagazione, ritorniamo un attimo al punto di partenza. Secret of Monkey Island, avventura grafica pubblicata appunto da Lucas nell'autunno del 1990, è soprattutto una creatura di Ron Gilbert, che era in Lucasfilm Games già da un pezzo, insomma, aveva creato il motore SCUM per Maniac Mansion, del resto si chiama come Script Utility for Maniac Mansion, cioè SCUM vuol dire quello, e l'aveva poi fatto evolvere per Monkey Island, aggiungendo più verbi, sistemando alcune cose, e con lui collaborarono come designer Tim Schafer, che era da poco in Lucas, e Dave Grossman, tre che poi, insomma, Ron Gilbert ha fondato poi dopo essere andato da Lucas il suo studio, Humongos, Tim Schafer ovviamente, fondato da Ball Fine, Dave Grossman è stato uno dei nomi più importanti in Telltale Games per parecchi anni, insomma, hanno lasciato il segno sul genere. Ed è un'avventura che nasceva per l'idea di Ron Gilbert che si era un po' scassato ai maroni, ne avevamo parlato anche negli scorsi episodi, fa parte di tutto quel gruppo di designer che a fine anni Ottanta si erano un po' scassati i maroni del design punitivo che c'era anche, paradossalmente, c'era anche nelle avventure punta e clicca, dove non c'era l'abilità manuale, ma comunque ti uccidevano, le avventure sere erano piene di morti che non potevi evitare la prima volta, cioè c'erano morti che erano veramente a caso, ricordo che in Little Sweet Larry se andavi in bagno e tiravi l'acqua venivi risucchiato dalla tazza, cioè erano l'equivalente dei platform game della piattaforma invisibile o del nemico che spunta fuori all'improvviso, cose che puoi evitare solo dopo che ti hanno già ucciso una prima volta. E in più c'erano un sacco di situazioni in cui potevi rimanere bloccato, perché non avevi preso un oggetto magari cinque ore prima e non potevi più tornare dietro a prenderlo. Questa cosa era particolarmente forte nell'avventure sere, ma in realtà c'era, anche se già hai comunque in misura più ammorbidita anche in Maniac Mansion e in, come si dice, in Zack McCracken, sia la possibilità di morire sia la possibilità di rimanere incastrato. Per esempio in Zack McCracken potevi finire i soldi, è vero che c'era un modo per trovare i soldi sostanzialmente infiniti, ma se avevi finito i soldi e non eri nel posto giusto non potevi proprio andare fisicamente a farla quella cosa e quindi rimanivi bloccato. Nello stesso Indiana Jones tra l'altro c'erano delle sequenze arcade in cui potevi morire e le sequenze arcade anche furono una cosa che stava un po' prendendo piede nelle avventure sere che Ron Gilbert voleva evitare. Quindi in questo senso fu un gioco molto innovativo, voleva fare un'avventura punta e clicca che abbandonasse un po' questi cliché e che diventasse un'avventura in cui non potevi rimanere bloccato, non potevi morire. Non c'erano sequenze arcade, tant'è che i duelli fra i pirati vennero impostati tramite dialoghi, ma dovevi solo goderti il gioco e andare avanti. Ovviamente questo poteva rendere il genere meno complicato, cioè toglieva parte della difficoltà, però in fondo, esattamente come il gioco arcade, toglie una parte della difficoltà che è, se vuoi, ingiusta e che è appunto figlia di una venta età del bisogno a punire e far perdere il giocatore perché ci deve dare le monete e che non aveva senso a casa, ma che per anni continuava ad esserci anche a casa. Non aveva senso a casa soprattutto nelle avventure in un genere che comunque non esisteva al di fuori delle bure domestiche. Infatti sì, però sai, la mentalità era quella, ma tra l'altro poi ovviamente Monchiain generò poi una rivoluzione, nel senso che la stessa Sierra ci mise, in quel periodo fece concorrenza a Lucas, soprattutto dal punto di vista tecnologico, Sierra era sempre avanti. Tipicamente le avventure a Sierra erano le prime, non so, ad aumentare la risoluzione, nel numero di colori, grafica più figa, però dal punto di vista delle meccaniche invece, quindi magari Lucas si inseguiva da quel punto di vista, invece Sierra inseguiva più dal punto di vista delle meccaniche, nel senso che Sierra ci mise un po' a convertirsi all'interfaccia grafica, abbandonare l'uso dei verbi, che poi in realtà a me piaceva, era uno stile diverso, era una cosa affascinante, e abbandonare questo stile della morte punitiva. ci misero più tempo loro, del resto vendevano un sacco, erano dominatori nel mercato dal sotto dal punto di vista, quindi ci sta anche che dici, vabbè, che sia Lucas quella che cerca più di innovare magari, e loro fanno più fatica a staccarsi da quello che ha sempre funzionato. Però insomma, sto Monkey Island, che l'idea, allora leggevo che Ron Gilbert vedeva che funzionavano molto i giochi fantasy, però lui il fantasy faceva cagare, è la cosa più vicino al fantasy che riuscì a immaginarsi, fu quella di fare una roba di pirati che invece gli piacevano molto, aveva appena letto, com'è che si chiama il romanzo, Stranger, on Stranger Tides mi pare, non so quale sia il titolo italiano, tu hai idea? No. Vediamo, indago, tanto c'ho davanti in Wikipedia, Mari Stregati, gli piaceva tantissimo l'attrazione dei Pirati dei Caraibi a Disneyland, e voleva un po' mescolare tutte queste suggestioni, e insieme agli altri due tirarono fuori questo gioco, che effettivamente, clamoroso, era veramente, nonostante ci fosse già l'interfaccia punta e clicca, nei tre avventure precedenti, Lucas, qui secondo me trovavo un'ulteriore morbidezza, comodità, praticità, anche come alcuni comandi erano stati semplificati, aveva ridotto il numero di comandi, potevi usare il tasto destro per usare il comando più ovvio per quella situazione, tipo, non so, sulle porte se prendi il tasto destro direttamente fai apri o chiudi, e venne introdotto le conversazioni ad albero, con le scelte multiple di risposte, un sacco di cose veramente fighe che cambiarono significativamente il genere, insomma, e che lo rendono secondo me molto piacevole da giocare ancora oggi. Sì, 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 assolutamente. Devo dire che rispetto ad altre avventure punta e clicca di quegli anni, magari anche successive di qualche anno, è forse, e sicuramente è così anche per le successive di Lucas, quella invecchiata meglio, che ancora oggi sì, vabbè, c'ha qualche elemento che risulta un pochino fuori dal tempo, ma complessivamente è super piacevole da giocare, super moderna come scrittura, come personaggi, come stile di enigmi e appunto come interfaccia. Mentre, per dire, ho rigiocato relativamente di recente a Future Wars ed è veramente faticoso, faticoso giocarci, o anche L'Ur of the Temptress, le varie cose prodotte in Europa che all'epoca, che anche all'epoca lo vedevi che erano peggiori, ma non c'era l'abisso che secondo me c'è oggi, se ne metti di fianco. Sì, sì, sono d'accordo. Di qualcosa anche tu, sennò faccio un monologo. Ah, sì, sì, scusami, è che sei lanciato a mille, per cui non volevo interromperti. Sì, no, io in realtà avevo, allora all'epoca giocai la versione, sono uno di quei pochi che ha giocato, tra l'altro non avendo il PC, ma a casa di amici, la versione ha 16 colori, poi chiaramente l'ho rigiocato a sua amiga, dove ho poi giocato anche Monkey Island 2, dove ho giocato in realtà la maggior parte delle avventure, fino all'arrivo di Scoom e di Scoom inteso come Scoom Viardus, l'inteso come emulatore. Ricordo che all'epoca appunto ho giocato Monkey Island, ma meno del 2, poi era arrivato il 2, era stata la bomba, per cui io ero nato, sono nato per anni, tra l'altro incrociando altre volte Monkey Island, comunque facendomi in ogni caso del partito, ma lo ammetto che era tanto che non ci giocavo stavolta, con l'idea che il 2 fosse quello davvero bello, che l'1 fosse molto bello, molto interessante, però una sorta di, come si può dire, gioco di passaggio tra quella che è la generazione di Maniak Manson e Zack McCracken a poi Monkey Island 2, che per me era stata la prima avventura, diciamo così, della seconda ondata, quella più moderna, diciamo, di Lucas, che poi ha lanciato l'A, per quelle che sono venute dopo, anche più complesse graficamente, però insomma, e invece rigiocandolo questa volta, quindi, diciamo, senza l'ingombro di Monkey Island 2, ingombro nel senso che anche quello era tanto che non lo prendevo in mano, per cui non, come si dice, non avevo questa necessità di prenderlo come termine di paragone, effettivamente l'ho trovato anch'io molto più fresco di quanto mi aspettassi, molto più, come si può dire, efficiente nel portare avanti sia delle meccaniche che sono effettivamente contemporanee, nel senso che davvero puoi trovarle in qualsiasi avventura. Forse è l'unica cosa che davvero dimostra gli anni, e anche lì contestualmente parlando, perché potrebbe andare benissimo bene, tale quale anche oggi, però diciamo una cosa che magari oggi non si farebbe è proprio l'interfaccia SCOM, così, con tutte quelle voci e proprio la costruzione di cose, però, ripeto... Sì, oggi se la fai è perché vuoi farla, cioè tipo Timberweed Park ha quell'interfaccia perché vuole essere quella cosa lì. Però in realtà un'avventura che nasce senza voler fare l'avventura Lucas, appunto, come Timberweed Park, non ne ha bisogno, non ne ha così bisogno, ci sono state alleggerite delle meccaniche, è stato limato, se non addirittura abrasato, il livello di difficoltà, più che altro adesso non giocano più su quella roba lì, che tra l'altro in effetti all'epoca era anche proprio un aspetto di gameplay, perché in realtà anche l'idea di saper costruire la frase giusta era parte, diciamo così, della difficoltà, con te sono intanto parlando. Tra l'altro, sempre sul discorso allora oggi, una cosa che mi ha colpito molto è che a livello di scrittura l'ho trovato fresco, essenziale, divertente, sempre piacevolissimo, mentre avevo il timore di trovarlo magari un po' verboso, ed è impressionante come in realtà da quel punto di vista lo trovi scritto meglio rispetto ai giochi recenti di Gilbert e Schaefer, perché non so se sia perché lavorando in tre assieme si influenzavano e limitavano la vicenda, o magari perché questa per l'epoca alla fine era una grossa produzione, quindi magari avevi un po' più limiti, dovevi stare entro certe costrizioni, mentre fai un'avventura punta e clicca oggi con un minimo di limiti, sostanzialmente limiti non ne hai, fai un po' quello che ti pare, scrivi avalanga, eccetera, però trovo che Symbol with Park e Broken Age, che pure mi sono piaciuti, poi lì va a gusti, io ho preferito Symbol with Park, altri Broken Age, però secondo me sono due ottimi giochi, sono estremamente più logorroici e pesanti nella scrittura rispetto a questo che invece trovo pulitissimo e liscio e sempre piacevolissimo, mentre Symbol with Park e Broken Age si parlano un sacco addosso, sia nel raccontare una storia, sia nel far battute, vanno avanti, vanno avanti, vanno avanti e oltretutto secondo me lo ammazzano un po' l'umorismo, perché l'umorismo che hanno quei due, trova funzioni molto meglio quando è così, quando è asciutto, quando ti fa la battuta, pam, col tempo comico, bastardi invece di andare avanti due ore e marciarci sopra in maniera infinita. Poi magari è una mia visione personale, però secondo me è molto più piacevole come scrivevano qui di come hanno scritto i loro giochi più recenti. Ma guarda, è una cosa che ha sorpreso anche me, ho apprezzato il fatto che essendo un gioco che non aveva ancora bisogno di rifarsi alla tradizione, Lucas, o rifarsi a un certo tipo di dialogo, diciamo che gioca l'umorismo senza troppe sovrastrutture, quindi funziona molto bene in questo senso. Diciamo sì, ci sono sempre le cose meta, la quarta parete che viene ogni tanto bucata e cose così, però è molto meno ingombrante da quel punto di vista la cosa ed è molto più, come si può dire, spontanea quando viene utilizzata, cioè non deve dimostrare niente da quel punto di vista, non deve dimostrare di voler fare quella cosa lì, perché quella cosa lì la sta facendo tra i primi, quindi la sta facendo naturalmente, non so se sono riuscito diciamo a rendere il concetto, però diciamo che è un gioco che... Sì, sì, ma anche poi, allora, sfatiamo un mito, perché c'è questa cosa che dice sempre Charles Cecil che quando lui si è messo a fare avventure grafiche, voleva fare avventure grafiche divertenti perché quelle che andavano per la maggiore si prendevano troppo sul serio, sì, quelle Lucas la buttavano sul ridere, ma quelle Sierra erano seriose, secondo me questa qua è sempre stata una grossa cazzata, perché tutte le avventure grafiche Sierra erano o Space Quest, Larry, che erano proprio palesemente demenziali, o comunque anche King's Quest, che era quello sicuramente più serioso e meno drammatico, era pieno di battute e di gag, quindi questa è sempre stata una cazzata, però quindi non è che questo fosse il primo gioco che la buttava sul ridere, quasi tutte le avventure punta e clicca o le avventure grafiche di questo tipo la buttavano più o meno sul ridere, però qui forse non esordiva perché in fondo Maniac Mansion era già su queste corde, ma si concretizzava proprio questa marca di umorismo che è poi quella di quei tre lì e che, ripeto, secondo me quando poi si sono separati era veramente una fantastica collisione di pianeti, loro tre assieme. Sì, e poi ecco anche l'umorismo come dicevi tu, effettivamente non è solo il fatto di non portare troppo in là le cose, non diciamo così spingere i tormentoni al massimo, ma è anche proprio il fatto che riesce, che è, non so come dire, è meno sofisticato e più coraggioso, non so spiegarti, però ci sono dei momenti in cui la battuta che fa Guybrush è o un'uscita così o una cosa che fa il personaggio, è, non so come dire, è quasi banale, è quasi aspettata per come la fa, però solo il fatto che la faccia, in qualche modo, al giorno d'oggi è quasi spiazzante, perché laddove ti aspetteresti, non so come dire, un'uscita ricercata, piuttosto che un botte rispotta, come si può dire, fatto deliberatamente sofisticato, artificioso, qui il fatto che la faccia è sempre semplice fa proprio più ridere tante volte. Sì, è meno costruito, l'umorismo che fanno adesso è più costruito, più elaborato, più anche ammirevole, nel senso, vedi il lavoro che c'è dietro, però finisce per essere secondo me un po' artificioso e nella maggior parte dei casi magari mi fa sorridere, ne apprezzo l'intento comito, ma non mi strappa la risata, che invece il primo monchiano, secondo me anche il secondo, almeno per come me lo ricordo, riusciva a strappare, magari proprio nel suo essere più semplice e più de panza, non saprei come dire. Sì, 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 ma ci sono veramente a volte le battute che fa l'amico scemo che la dice perché sa che non fa ridere ma la voglio fare lo stesso, però aspettano sempre a ridere, perché in realtà a volte non è tanto la battuta ma è il tempismo in cui decidono di usarla, è il momento, riesce a essere contemporaneamente attesa e inaspettata, non so come dire, funziona davvero molto bene, ad esempio nel circo, in un altro paio di cose ci sono dei momenti che sono veramente divertenti, oppure quando veramente gioca con le parole letteralmente, visto non so come quando esci dal, a un certo punto esci dal, arriva il tizio Herman Tutrut nel labirinto dell'inferno sotto Monkey Island e dice come hai fatto a venire senza una testa? Io ce l'ho una testa, cioè sembrano cose veramente, è così semplice effettivamente, cioè è veramente un volismo laterale, però funziona benissimo e questa è quella che mi viene in mente. Mi hai fatto venire in mente un'altra cosa che secondo me contribuisce anche al senso di minore logorrea, le avventure grafiche contemporanee, sicuramente Broken Age e Timberwood Park hanno questa cosa che difficilmente ti fanno perdere possibilità di dialogo, cioè tu hai la scelta multipla, le puoi fare tutte, tranne in rari casi e io tendo a provarle perché vabbè, sono curioso, voglio vedere. Monkey Island è pieno di conversazioni in cui tu scegli una risposta e poi la conversazione va avanti, se vuoi vedere le altre devi tipo caricare il salvataggio, questa cosa che tu hai appena detto, ho visto che c'era la risposta ma ne ho fatto un'altra e non l'ho vista quella battuta. Secondo me è anche questo parte del motivo per cui mi dà questa impressione di minore logorrea. Beh, ma questo è parte del concetto di rigiocabilità dell'epoca, secondo me. Può essere. In senso che effettivamente uno si poteva anche rigiocare l'avventura, erano relativamente brevi, erano relativamente smelle, c'erano meno giochi in giro, c'era più l'hype sul gioco in particolare. Magari generazionalmente addirittura c'erano più giocatori studenti di oggi dove c'è un target molto più vario, in cui magari così, però non so come dire, il fatto che veramente noi all'epoca già giocavamo i giochi più di una volta è parte di un processo che per noi generazionalmente, per formamenti, per disponibilità, per tutto il resto, ed eravamo probabilmente il pubblico principale di quel tipo di cose, secondo me faceva sì che si potessero usare questo tipo di robe, che non ci fosse questa paura di non darti tutto al primo giro. Sì, sì, sì. Ecco, tra l'altro diciamo una cosa, allora io all'epoca ci giocasti su la versione 16 colori, e poi la recuperasti anche su Amiga, e ci giocasti, ecco c'è questa cosa qua, Monkey Island, il primo Monkey Island, non ricordo onestamente quante volte, e sicuramente non ci giocavo da almeno 20 anni, probabilmente anche 25, però ricordo che l'ho finito più volte, ci ho giocato e rigiocato e rigiocato, mentre il due presente l'ho finito solo una volta, le dice, questa diversità fra di noi sull'approccio, e io ce l'avevo per Amiga, e tra l'altro ho qua la scatola, a parte che mi fa morire che, cioè, la versione Amiga sul retro c'è una foto della versione a 256 colori, e tre foto della versione a 16 colori. Vabbè, ok, voglio leggere cosa c'è scritto dietro, ma le dico ancora la sorte che mi ha fatto scivolare nella gola della scimmia di pietra, che fine avevano fatto i miei sogni di poter saccheggiare galeoni e ubriacarmi di grog, mi dissero tre piccole prove e sarai un pirata come noi, tutto normale, se solo avessi potuto reggere il ripugnante intruglio che quei poveracci di lupi di mare tracannavano, il resto sarebbe stato uno scherzo, come potevo immaginare che avrei incontrato una donna bella e potente con un corteggiatore molto geloso e un po' stupido per capire che era morto da parecchi anni, e come potevo attraversare la grande scimmia di pietra per cercare un uomo che camminasse tre pollici da terra ed esse fuoco la sua barba ogni giorno, tratto dalle memorie di Guybrush Tripwood, di Monkey Island, che è meraviglioso perché è serissimo, cioè, contiene una quantità incredibile stronzate, però è serissimo, che è un po' la chiave di Monkey Island, a parte che dice superba grafica tridimensionale. Ok. Ma quello lo dice, attenzione, quello è poi come quando nel dialogo nella taverna parlano di Loom, eccezionale grafica in alta risoluzione. Sì. Non sa cosa voleva dire per l'epoca cosa si dice. Per l'epoca era probabilmente alta risoluzione, nel senso che supportava la... Era al massima possibile. Eh, supportava la CGA, tipo. Tra l'altro, ieri stavo guardando la confessione di Monkey Island 2 e sul retro c'era scritta una cosa tipo, adesso non mi ricordo di preciso, però c'è una roba tipo modalità facile per chi non è capace e per i recensori di videogiochi. Vabbè, grazie. E' un'anno tempo, attenzione. No, no, che non hanno tempo, che non sono capaci proprio più. E un'altra cosa che dice qua dietro è tempo medio di gioco a 30 ore, che mi sembra onestamente un po' esagerato. Cioè io, allora, adesso... Ecco, no, ecco un'altra cosa importante. Io all'epoca ci giocai su Amiga e ricordo che vedevo la versione a 16 colori come quella un po' sfigata e quella a 256 colori come... Eh beh, cacchio, vorrei provarla. Adesso ci ho rigiocato a 256 colori, ho fatto un po' di paragoni, ho provato su emulatore, Amiga, PC, e ho detto vabbè, no, dai. Finalmente mi tolgo lo sfizio di giocarci a 256 colori e ho giocato la versione a 256 colori della Special Edition che avevo e a cui non avevo mai giocato. e che in realtà, devo dire, è fatta molto bene perché mettendola proprio di fianco a un video su YouTube della versione a 256 colori originale, è quella, però si vede, almeno, ho l'impressione che abbiano fatto un minimo di lavoro per renderlo comunque più gradevole, spalmato su un monitor moderno che è più grande, quindi un pochino ripulito, eccetera. Però è molto fedele, cioè sembra veramente di giocare all'epoca. E soprattutto, devo dire, giocarci a 256 colori mi fa quell'effetto che è come nei miei ricordi era la versione Amiga. Che in realtà, poi la guardo e dico, no, beh, era peggio la versione Amiga, del resto 32 colori, cioè aveva la sua Amiga. Però mi dà quell'idea lì, cioè, nei miei ricordi sua Amiga era bello, come è bello a 256 colori, che peraltro è bellissimo. Cioè, a parte veramente un paio di cose, oggi un gioco, un'avventura punta e clicca indie in pixel art potrebbe tranquillamente avere quella grafica. È fantastica, secondo me, ancora oggi, pur non essendo magari, anzi, sicuramente a livello di quella di Monchielan 2, che è ancora più raffinata, colorata e bella. Poi, tu adesso in che versione ci hai rigiocato? Ci ho rigiocato in quella... a 256 colori. Ok. Io comunque ho curiosato un po', ho giocato un pochino, ho guardato un po' su YouTube, quella a 16, ed è comunque pazzesca, considerando quello che avevano, svilupparono appunto la tecnica del dithering per poter mescolare i colori che avevano assieme e poter ottenere ulteriori colorazioni. Soprattutto si vede, lo leggevo in un articolo, che sull'ultimo Retrogamer c'è uno specialone dedicato al trentennale, e parlava del fatto che a 16 colori, cos'era la EGA, sì, la EGA, perché la CGA era quella ancora meno colori, giusto? Sì. Era forte soprattutto col blu, con i toni blu, che è il motivo per cui il gioco è ambientato soprattutto di notte, perché venivano meglio, e in effetti, se tu vai a vedere le varie foto, le scene che hanno molto blu, certi primi piani, le scene notturne, sono bellissime, e sono molto vicine a come è a 256 colori, ovviamente mancano sfumature, soprattutto nei punti dove ci sono luci, o cose particolarmente colorate, per tutte le cose in notturna sono veramente belle, mentre dove c'è più luce, più sole, scene un po' più di giorno, pur bellissime, c'è la parte, c'è la scena sul pontile col tramonto, che è fichissima, anche a 16 colori, però si vede molto di più lo stacco con la versione a 256 colori, ovviamente, però anche questa cosa è affascinante, per dire, la mappa di Melee Island che è di notte, vedi una foto a 16 colori e così a colpo d'occhio sembra quasi uguale a quella a 256, la mappa di Monkey Island che invece di giorno si vede molto di più la differenza, secondo me, è anche curiosa questa cosa. Ok, io in realtà non ho guardato, non sono andato a vedere quali sono i 16 colori, nonostante le mie promesse di giocarlo su. Vabbè, ma sì, ci sta, tra l'altro ecco, ho aperto adesso la scatola, ci sono i suoi miei quattro dischetti della versione Amiga, c'è il disco Dial Pirate per la protezione antipirateria che dovevi ruotare per leggere le cose, manuale ovviamente, e oltretutto io ho dentro la guida ufficiale, perché mi ricordo, allora, ecco, questa cosa è importante, la cosa delle 30 ore, io all'epoca ci giocai da solo, oltretutto ricordo che mentre ci stavo giocando c'è stato un momento che ero a casa con la febbre per qualche giorno ci giocavo sul letto, avevo l'Amiga e il monitor sul letto, con il fisso sul letto, ah però in effetti l'Amiga si è ragione, era una tastiera, era una cosa fattibile, era una tastiera un po' ciccione, e solo che essendo sul letto era un po' instabile e continuava a staccarmi il cavo e praticamente la parte dove Elen e Guybrush si incontrano sul pontile ci ho giocato tipo otto volte di fila perché continuava, siccome era una cazzina non potevi salvare e quindi continuava a saltarmi il computer sempre in quel punto e dovevo ricaricare il salvataggio e rifarla e vabbè, ricordo che lo giocai interamente senza, mentre spesso con le avventure Sierra guardavo le soluzioni sulle riviste perché erano veramente stronze, ci giocai interamente senza soluzione, tra l'altro subentrando con la mentalità del vabbè, l'ho finito senza neanche metterci troppo tempo è troppo facile quindi nei miei ricordi due munchiai erano facili rispetto ad altre avventure puntefiche però a un certo punto mi bloccai perché sulla nave per qualche motivo non mi veniva in mente di aprire la scatola dei cereali ma caspita è vero è vero non era una cosa scontata e tra l'altro io giocandoci ammetto di tra l'altro io me lo sono brasato ieri a Maratona tutto e avevo sbirgiato la soluzione e quella roba dei cereali l'ho guardata ma non perché non stavo riuscendo a farla ma perché semplicemente mi è scappato l'occhio sul punto cioè quando proprio così e quando l'ho fatto ho detto cazzo però non era così scontato pensare di come si dice oltre a prendere la scatola perché poi c'è la sorpresa e la chiave è dentro la sorpresa quindi devi scartarla due volte quello è l'unico momento in cui il comando open lo usi per aprire un oggetto che hai in mano fino a lì lo usi per aprire porte o al limite bauli cose del genere non lo usi per aprire cose che hai in mano almeno non che io ricordo e forse per quello non mi veniva in mente mi ero un po' frustrato ero troppo curioso di andare avanti ho chiesto a mia madre di comprarmi la guida e me la prese e ho guardato quella cosa lì no la guida è vero perché giustamente all'epoca un'altra cosa fondamentale è che non c'era internet e no è chiaro o aspettare cioè avrei dovuto aspettare nel senso la prospettiva era non so che cazzo fare ho troppa voglia di andare avanti metti che sono veramente bloccata devo aspettare che escano le riviste con la soluzione sopra allora ho chiesto a mia madre di comprare la guida e sono contento in realtà perché è veramente figa dove le trovavi le trovavi nei negozi di videogiochi sì 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 nei negozi di videogiochi cioè da per gioco dove mi aveva ne aveva preso anche il gioco non mi ricordo se le avevo chiesto io il gioco o se me l'aveva preso l'epoca a volte mi prendono delle cose facendosi suggerire a volte prendendomi delle figate a volte prendendomi delle cose che vabbè come è normale un genitore e mi prese il libro di suggerimenti che era molto figo perché a parte c'era un'introduzione molto carina era impostato come una conversazione fra Gaiba Stripud e un amico con Gaiba Stripud che diceva posso fare questo? come faccio a fare questo? e l'amico gli rispondeva e c'era erano occultate le risposte c'era una scritta rossa che diceva questo libro è stato fatto la scritta rossa diceva le avventure della Lucasfilm sono sempre molto divertenti questo libro è stato fatto per salvare i nervi del giocatore ed era scritta rosse sopra le scritte blu con i suggerimenti quindi tu per poter leggere i suggerimenti dovevi mettere sopra questa specie di foglio trasparente rosso che cancellava le scritte rosse ti faceva leggere le risposte e le risposte erano organizzate come ti do una prima risposta vaga una seconda un po' più concreta e la terza ti dico proprio cosa devi fare ed era molto carino devo dire fatto bene con alla fine l'elenco degli oggetti dove sono con usarli cioè vedi c'era anche dell'attenzione nel fare queste cose qua alla fine c'è anche l'elenco degli insulti vabbè comunque però vedi questa cosa del fino a qui non l'hai fatto ti faccio aprire la scatola quindi ti colgo di sorpresa facendo cose che magari non penseresti di poter fare o di dover fare è comunque una cosa che nel gioco succede spesso che solo qui mi ha fregato ma succede spesso perché se ci pensi anche l'enigma ci sono un paio di situazioni in cui l'enigma non è combina gli oggetti perché per esempio quando vai dal negoziato ecco scusate allora inciso ragazzi se ci state ascoltando non avete mai giocato a Monk Island siete incuriositi volete giocarci non volete spoiler andateci a giocare e poi continuate l'ascolto perché adesso iniziamo a dire un po' di cose che magari non volete sapere se volete giocarci per la prima volta magari volete saperle se siete bloccati in quel punto lì chiaro se non vi interessa ascoltate però siccome abbiamo dieci minuti fa appena finito di dire che è un gioco estremamente piacevole ancora oggi magari detto questo quando vai dal negoziante e mi ricordo che all'epoca fu molto figo rendermi conto che quando lui esce lo puoi seguire per vedere dove va ed è esattamente quello che devi fare cioè trovare il posto dove si trova poi l'istruttore di scherma e anche il fatto che quando lui apre la cassaforte puoi guardare veramente cosa fa te lo segni ce l'ho qua segnato sinistra 360 gradi destra e perché così apri la cassaforte quando se ne va che sono due cose che sono molto fuori dagli schemi perché non è risolvi l'enigma combinando oggetti ma capisci che puoi fare questa cosa qua oltretutto poter seguire il tizio ovviamente è una cosa contestuale non è che come magari era in Lure of the Temptress ci sono i personaggi che vanno in giro per i fatti loro e tu puoi decidere di seguirli o in certe avventure si erra c'erano cose che accadevano in un momento preciso dovevi essere lì questa è una cosa molto contestuale cioè tu gli dici andare e lui va e lo puoi seguire però è molto figo cioè ti dà l'idea di un mondo che non finisce nella schermata lì lui va e effettivamente va là e tu effettivamente lo puoi seguire era veramente una rivelazione in quel momento sì 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 assolutamente tanto devi anche essere relativamente veloci per seguirlo sì 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 potevi perdere potete dire se ti metti a parlare così adesso tra l'altro l'attenzione io non ho provato però se ti metti a parlare se torni indietro puoi anche non seguirlo poi tra l'altro se non lo segui lui torna vero? sì allora non so se restando nel negozio torna dopo un tot però sicuramente quando poi torni al negozio lo trovi probabilmente c'è un tot di tempo perché puoi anche tornare al negozio e trovare il campanellino da suonare e poi vabbè c'è la gag che torna istantaneamente se provi a rubare qualcosa sì 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 e poi il fatto che torna e poi tu dici vabbè suppongo che potrei andarci e poi di una volta e poi dopo suppongo che potrei andarci di nuovo e ci sono anche tutti questi dettagli qua sì beh perché ovviamente hai bisogno che lo faccia per poter andare avanti nell'avventura fosse stata un'avventura sierra probabilmente dopo la prima volta non ci tornava veramente più ed eri bloccato però sì veramente tutte queste piccole cose lo rendono secondo me ancora gradevolissimo e in realtà sono cose che non necessariamente trovi nelle avventure moderne che sono magari più impostate in altre maniere più sul dialogo ha veramente una freschezza non so come dire ma è vero tante avventure moderne non non usano più quel tipo di di gag sono veramente molto più ma anche per dire Timberwood Park se la mena molto di più a livello di bascute di umorismo e di costruzione delle situazioni anche quando vuole fare l'ingenuo è l'adulto che fa l'ingenuo lì smano davvero robe fatte da ragazzini nonostante poi non fossero ragazzini loro però insomma sì ragazzini che poi stavano facendo una roba veramente nuova e complicatissima anche perché poi decidere in quel momento basta facciamo un'avventura in cui non ti puoi bloccare non puoi morire è un casino perché lo spiega bene nell'articolo su Retrogamer ci sono anche le foto dello schemino che aveva fatto devi creare sostanzialmente uno schema di tutti gli enigmi di come si collegano fra loro e procedere anche al contrario cioè in qualsiasi punto del gioco devi dire ok da adesso se io torno ho tutto quello che mi serve ci sono dei punti in cui posso non avere tutto quello che mi serve e devi strutturare ogni singolo momento in modo che il gioco non ti fa andare avanti se non hai tutto quello che ti servirà dopo sì sì ma chissà quanto hanno investito anche sul testing immagino ah sì 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 beh poi facevano le pizzate della morte invitavano amici e parenti lì negli studi di Lucas non mi ricordo come lo chiamavano credo pizza orgasma una cosa del genere pizzagasm e ordinavano pizza valanga e facevano giocare la gente per provare il gioco però sì sicuramente una quantità di testi devastante ma poi per dire la cosa dei duelli che è la classica cosa che il seno di poi vabbè l'ho trovata geniale non si poteva fare diversamente però lo dico per chi magari non ci ha giocato e ci ha continuato ad ascoltare ovviamente nel gioco ci sono i duelli a fil di spada fra i pirati non potevano non esserci Ron Gilbert però non voleva inserire le sequenze arcade che iniziavano ad esserci in tante avventure punta e clicca c'erano anche nel precedente Indiana Jones e l'ultima crociata a cui avevano comunque collaborato e si inventò che odio le sequenze arcade mamma mia ma le odio ancora adesso ma in generale io odio sempre quando compro un pacchetto orientato in un genere soprattutto un genere tra virgolette radicale come quello delle avventure grafiche o dei giochi di ruolo che dovrebbero darmi un'esperienza tra virgolette intellettuale ma nell'ottica dell'approccio in cui non devo sviluppare particolari riflessi e poi c'è il pezzo arcade dove comunque è superabilissimo però c'è mi rompe coglioni devo dire io la vedevo in maniera lievemente diversa nel senso che a me non dispiaceva necessariamente il concetto di metterci la sequenza arcade anche un po' per spezzare il ritmo il problema è che facevano sempre cagare non ho mai visto un'avventura a punto e clic in cui la sequenza arcade fa bene la cosa che sta facendo che sia un combattimento che sia un momento platono che sia una roba in cui stai guidando un veicolo è sempre una roba raffazzonata per forza perché ovviamente non hai sviluppato un gameplay un motore con la qualità che avrebbe in un gioco dedicato solo a quello è solo un'esigenza di ritmo ammesso che sia un'esigenza sì o un lo fanno tutti e quindi lo faccio anch'io oppure il timore il gioco troppo cerebrale mettiamoci qualcosa per spezzare un po' se no poi la gente fatto sta che facevano cagare e lui voleva fare i duelli in una maniera diversa e si inventò questa cosa che in pratica tu fai i duelli a insulti c'è questa battaglia di insulti chi dà la risposta smart all'insulto che gli viene fatto vince quel pezzettino di duello e se vinci tot pezzettino di duelli vinci il duello per intero e oltretutto era una cosa che in realtà dice gli venne l'illuminazione guardando i classici di cappa e spade notando che comunque loro nel combattere subito prima subito dopo durante i vari attori dei classici di quel genere si parlavano addosso si diceva sono troppo figo tiro un po' il culo tutte le battutone quindi guardate se poi dopo Monkey Island ti capita di guardare un film con Aaron Flynn di quelli proprio alla vecchia ma anche un film dove fanno il verso a Aaron Flynn come potrebbe essere la Princess Bride come si chiama la storia fantastica o Robin Hood di Mel Brooks e tu ci fai il caso cioè è veramente così stoccate 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 pausa battute del cazzo stoccate 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 ed è esattamente quella roba lì è incredibile e poi in fondo non è poi così diverso dal classico film d'azione in cui il protagonista fa la battuta sarcastica e dice la cosa al cattivo e il cattivo gli risponde però poi alla fine il buono è quello che ha l'ultima parola con la battuta ganza perché tu sai che in qualche modo la costruzione del discorso il dialogo in un film intendo contestualizzano l'andamento dello scontro si aiutano sono addirittura per chi non ha voglia non è interessato o comunque non vuole impegnarsi a leggere tra le righe la forza diciamo che magari viene manifestata sono quasi un sottotesto anche in Key Bill è anche in film molto molto moderni si si assolutamente oltretutto Tim Schafer dice che lui era un pochino contro questa cosa perché aveva paura che invece siccome quello era lo standard che invece fosse il caso di farle come sequenze arcade e dice ecco il senno di poi aveva assolutamente ragione Ron Gilbert meno male che l'abbiamo fatto è una delle idee più fresche e belle del gioco è molto bello anche come viene gestita nel senso che qui secondo me arriviamo a un altro punto di di Monkey Island cioè il fatto che tu vai a allenarti dal maestro super cazzuto che è con la benda sull'occhio lì in un altro gioco in un gioco serra probabilmente sarebbe stato lui il maestro di spada mentre invece il maestro di spada è una donna è una donna tra l'altro di colore che è sensata nell'ambientazione caraibica e multietnica che ti dà il gioco però non è scontato che il personaggio più cazzuto quindi lo spada più forte è una donna sì ma in quel senso è una donna ed è una donna non so come dire e non c'è in questo c'è una grande spontaneità perché non è una scelta che ti fa pesare il fatto che sei una donna nel gioco è assolutamente normale perché è contestualizzata come una donna forte e credibilissima sì che poi si fa i cazzi suoi quando partecipate per il viaggio in nave sì ma come tutti nel senso che vabbè ovviamente lì è una gran sola quel viaggio in nave tra l'altro bellissimo poi il fatto che ecco e da qui secondo me arriviamo anche al fatto che ho trovato l'umorismo e l'approccio diciamo alle situazioni poi come ci è capitato dicevi tu anche Elaine è un personaggio femminile molto moderno perché veramente non ha neanche bisogno cioè Guybrush che fa tutta quella tirata e tutto quanto così c'è è semplicemente un problema di impossibilità di comunicazione perché Elaine ha tutto sotto controllo fin dal inizio scusa Elaine dici? Elaine sì beh ma del resto Elaine cioè la grande gag da quel punto di vista è che la storia sembra dipingerla come la damigella da salvare lei appunto invece se la cavava non solo se la cavava da sola mi dice grazie apprezzo che hai fatto tutto questo però tutto sotto controllo sì non solo Guybrush le ha complicato la situazione sì perché le scimmiano sono impazzite sono scappate sì sì che poi tra l'altro è uno dei motivi per cui i Monkey Island successivi al secondo sono secondo me pessimi e anche perché forse nel quarto Elaine invece viene veramente usata come la damigella da salvare che è proprio il tradimento completo del personaggio che è nei primi due e voglio dire prima di tutto è il governatore quindi in ogni caso è una persona che sa il fatto suo non tanto sì un po' per lignaggio però lo sa fare è un governatore dispettato poi se indaghi comunque i vari dialoghi e tutto quanto capisci anche che era un governatore che chiudeva un occhio sul mondo piratesco che accettava anche tutta una serie di trucchetti di cose non è una persona che è moralmente cristallina cioè nel senso non nell'ottica tradizionale nel termine penso che ok sì no perché chiudeva un occhio sulla mia cucina dice il cuoco prendeva le tangenti e non chiamava l'ufficio di genere comunque è un personaggio così è un personaggio veramente una narrazione femminile moderna e che si mangia tutti gli uomini della sua vita perché l'Iciak e lo stesso Guy e Brascio sono tutti impotenti di fronte a lei sì 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 ma anche lo sceriffo che sia o meno un uomo della sua vita lei comunque lo manipola sì 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 e che vabbè che poi si scopre essere in realtà l'Iciak sì sì certo però in qualche modo è come si dice è un personaggio che lei tiene a bada sì sì assolutamente assolutamente ecco tra l'altro visto che ho accennato ai problemi dei giochi successivi al secondo una cosa che trovo veramente netta è fastidiosissima il terzo il quarto Monkey Island e quello di Telltale visivamente sono un tradimento allucinante secondo me perché alla fine a parte allora Monkey Island 3 obiettivamente ha una grafica bellissima cioè i fondali sono pazzeschi ha questo stile cartonesco è fatto benissimo secondo me Monkey Island 4 e Telltale sono bruttarelli proprio però vabbè ok ma il problema è che la special edition secondo me no la special edition è una merda non è che è bruttarella fa proprio cacare al di là del fatto che poi conserva più o meno la caratterizzazione che ha avuto la serie dal 3 in poi e quello è veramente la cosa che mi dà fastidio al di là poi del ritenere più o meno riusciti i giochi secondo me nessuno è al livello dei primi due soprattutto poi per come sono strutturati gli enigmi ma vabbè il vero problema è che hanno stravolto le caratterizzazioni cioè la cosa carina secondo me di Guybrush perché la caratterizzazione di Monkey Island ed è detto chiaro anche proprio nelle intenzioni se guardi le interviste sono le illustrazioni di Steve Purcell le due copertine e eventuali altre illustrazioni sparse in giro quello è come sarebbero stati i personaggi se fosse stato tecnologicamente possibile farli e non usare 4 pixel tant'è che quando ci sono i primi piani che sono tra l'altro bellissimi hanno quell'aspetto lì anche nel finale sì un sacco di momenti le donne sono splendide e Guybrush è un figo è che è un coglione però è un bel ragazzo è uno che ce lo vedi tutto sommato che vuole fare una vita d'avventura e invece da Monkey Island 3 non a caso perché secondo me ci ha lavorato uno che aveva lavorato su Day of the Tentacle sostanzialmente Guybrush diventa Bernard di Day of the Tentacle diventa questo sfigato allampanato che non c'entra proprio niente hanno fatto diventare la caratterizzazione fisica aderente alla caratterizzazione psicologica mentre parte del bello di Guybrush era proprio secondo me questo contrasto soprattutto nel 2 poi con la barbetta è proprio un figo Guybrush ma infatti guarda il miglior Guybrush possibile in termini fisici è quello dei Pirati dei Caraibi con Orlando Bloom con Orlando Bloom è perfetto sì esatto è così quello è Guybrush cioè Orlando Bloom nel primo Pirati dei Caraibi sembra il Guybrush di Monkey Island 2 col pizzetto un po' di barbetta quel tipo di look lì e tutto quanto poi senza entrare nel merito di chi ha fatto prima cosa né che sì sì vabbè però è effettivamente quella roba cioè al di là di tutto a prescindere io me lo immagino così Guybrush per cui vedermelo dopo all'ampanato e tutto quanto è bello perché è realizzato bene effettivamente è un bello stile però non è quello del non è quello del gioco infatti cioè io capisco chi magari tipo il nostro Talarico ha un gran bel ricordo di Monkey Island 3 anche perché è il primo a cui ho giocato è più giovani di noi però veramente cioè secondo me i seguiti i successi i post Monkey Island 2 a parte il crimine di provare a spiegare il finale di Monkey Island 2 che vabbè però è anche vero che se fai il 3 qualcosa ti devi inventare ma poi oltre a trovarli personalmente deboli come design degli enigmi come scrittura come comicità eccetera la cosa che me li fece tra virgolette odiare perché poi odio una parola forte era proprio questo stravolgimento delle caratterizzazioni estetica che poi diventava anche alla fine stravolgimento della caratterizzazione appunto e basta perché come abbiamo detto Elen diventa veramente la damigera da salvare che non è quello che dovrebbe essere insomma tanti errori secondo me poi possono essere diventa un'avventura comica molto più convenzionale sì esatto mentre i primi due monkey island adesso il 2 erano anche giochi veramente d'avventura nel senso al di là di tutto non prendevano sotto gamba il viaggio dell'oro e tra l'altro facendosi caso ho proprio letto tutta la parte di monkey island ma fin da quando lui entra nel gioco e attraversa la soglia mi sono reso conto di quanto siano sistematiche la costruzione della narrativa come nei film d'azione o d'avventura ci sono proprio tutte le tappe fatte ad hoc e suggerisce gli aspetti grafici che si sono nel gioco questa cosa è molto figa e poi dicevo come volevo dire oltre al fatto che l'aspetto la caratterizzazione dei personaggi è matura per esempio quella delle donne è anche maturo è contemporaneo all'umorismo nel senso che riesce a fare ridere senza essere politicamente troppo politicamente scorretto se non affatto nel senso che anche quando ci sono situazioni che magari adesso sarebbero in qualche modo discutibili comunque sono trattate con molta molta leggerezza questo magari era dovuto al fatto che era un'avventura per ragazzi che c'è di mezzo Gilbert che comunque poi è uno che ha fatto effettivamente giochi per educativi giochi per ragazzi per cui ha sempre avuto quel tipo di impostazione e poi c'è anche il video giochi era una grossa produzione era in mano alla Lucas che per certi versi era la Disney all'epoca perché Disney non stava facendo questo tipo di cose per cui aveva comunque a cuore in qualche modo il rapporto col pubblico poi vabbè lascia stare che nel secondo design c'erano cuori strappati e così e tutto quanto però in ogni caso ci si faceva a caso e poi il fatto che magari era un videogioco per cui immaginando che gran parte degli acquirenti ma non tanto proprio per questioni di Tarly ma realmente erano ragazzi ma proprio perché magari era la prima generazione che stava giocando della crescita con i videogiochi al massimo la seconda non volevano rotture di coglioni cioè non o facevi il gioco per adulti deliberatamente detto per adulti poi tra virgolette perché anche quello così all'Azer Street Larry in cui la scorrettezza il playboy era al centro del gioco era il tema però in questo caso è tutto estremamente comico tutto estremamente divertente non scontato ma anche come si può dire moderno come un umorismo è un umorismo che adesso veramente gli troresti giusto due cose da fargli la punta al cazzo sì 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 sono sono assolutamente d'accordo ed è veramente quello che mi sono immaginato quando oddio non mi viene il nome come si chiama Altissio di Glow l'allenatore l'attore Mark Maron è come quando Mark Maron diceva dobbiamo cioè ci può ci sono modi ci dobbiamo inventare ma si può fare si può far ridere tenendo conto di certe cose non è necessariamente che è tutto un libido così in realtà Mark Maron è un ottimo esempio di questa cosa qua funziona tutto bene non è scontato non è solo per ragazzi eppure riesce veramente a essere moderno a non giocare a non prendere la strada più facile in un sacco di momenti ed è stato scritto in un periodo in cui praticamente qualsiasi cosa veniva scritta in tutt'altro modo sì esatto ma ripeto questo forse dipende dal fatto che doveva essere una roba per ragazzi chi lo sa però secondo me dipende molto dal fatto che erano giovani erano giovani erano creativi giovani quindi avevano una mentalità comunque più nuova cioè voglio dire secondo me conta molto quello sì 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 ecco tra l'altro ecco una parentesi sugli enigmi monkey island viene sempre ricordato come un gioco con gli enigmi strani bizzarri anche illogici devo dire io non sono mai stato d'accordo con questa cosa ed è parte ma in realtà io entrambi all'epoca ripeto non li trovai particolarmente difficili secondo me è una cosa uno è molto bravo a farti entrare nella sua mentalità cioè tu quando giochi a monkey island per te è normale che il pollo di gomma abbia la carrucola in mezzo e lo usi per andare sul cavo al di là del fatto che devi andare sul cavo c'è la carrucola mi pare pure normale pensarci però ci sono cose magari un po' più bizzarre però secondo me ti metti cala bene nella mentalità giusta soprattutto perché gioca tantissimo con le parole con i doppi sensi e quindi ti fa entrare in quel modo di pensare ma secondo me ne fai per gran parte che ci penso gran parte dei problemi probabilmente erano anche dovuti a traduzione dall'inglese all'italiano però io ci giocai in italiano e qui ci volevo arrivare anche no nel senso erano stati localizzati in maniera non so come dire nella localizzazione non si era tenuto conto sufficientemente conto beh ma forse quello più banale conosciuto è nel secondo Monkey Island quello della scimmia che aveva inglese sì 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 però vedi quello che io volevo arrivare a dire è che io in realtà giocandoci quando sono entrato in quella stanza lì ho visto la pompa ho visto mi ricordo proprio la scimmia la scimmia nell'inventario che era forma un po' rettangolare subito tac scimmia pompa il cane che deve tuffarsi nel mucchio di lettere sempre Monkey Island 2 subito cane mucchio di lettere cioè mi calava nello stato mentale per cui quelle cose mi risultavano logiche anche se mi stavo perdendo lo stesso umorismo era basato sull'uso laterale del linguaggio poi a quel punto tutto viene da sé c'era moltissima c'era moltissimo era molto molto organico il rapporto tra il taglio delle gag e la costruzione degli enigmi sì poi nel 2 aiutava il fatto che appunto una delle innovazioni fu avere l'inventario dove gli oggetti invece di essere una descrizione erano proprio le icone degli oggetti però sì cioè succedeva questa cosa che anche se mi perdevo il suggerimento dato dal gioco di parole funzionava lo stesso tra l'altro questa qui è la prima volta che ci ho giocato in inglese all'epoca ci avevo giocato in italiano e per dire anche nell'1 però ci sono le icone come? no forse forse nella versione a cui hai giocato tu sì sì no nella versione originale diciamo gli oggetti sono un elenco di parole sì 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 nella special edition hanno perché poi la versione su CD-ROM che aveva tra l'altro la conna sarà molto più figa Roland sarà Peppa lì adattarono anche l'interfaccia recuperando quella del 2 quindi con gli oggetti e icone se non sbaglio fu questa la trafila ed è quella che ho giocato ok sì aspetta che per esempio qui come gioco di parole che all'epoca mi era completamente volato sopra la testa c'è il fatto che il tipo che fa la guardia al ponte ti chiede un oggetto che è molto appariscente ma in realtà non serve a nulla e tu gli devi dare la ringa rossa perché red herring in inglese vuol dire quello tipo nei film quando c'è qualcosa che attira molto l'attenzione e pensi che sia importante in realtà è un depistaggio è una distrazione però ovviamente è una roba che si perde in italiano e si perde anche giocandoci in inglese se non sai che red herring vuol dire quello oltretutto quel tizio lì che si toglie la maschera è George Lucas ovviamente sì sì allora ammetto che non me ne sono accorto l'ho letto leggendo varie curiosità in giro visto che George Lucas e una volta che lo sai se lo guardi dici sì in effetti è George Lucas e vabbè così era un omaggio buttato lì dentro tra l'altro dichiarazione famosa di Ron Gilbert degli ultimi anni una cosa che sicuramente ho capito rispetto all'epoca è che non è il caso di basare enigmi su giochi di parole perché poi la localizzazione te li ammazza che in effetti cioè la verità è che erano cose intradicibili se ti confermo comunque ho giocato la versione CD-DOS bugia non puoi adattarlo realmente il gioco di parole della chiave inglese che in inglese è Monkey Ranch e quindi la scimmia la puoi usare come chiave inglese vai come vai però vabbè insomma è comunque sono dettagli o del resto nello stesso negozio c'era il manuale con la soluzione quindi alla brutta si spargeva la bocca tra l'altro ecco abbiamo fatto tutti questi discorsi sul poter morire e bloccarsi comunque in Monkey Island si può morire ed è una cosa che io all'epoca scopri provandoci perché siccome lui diceva più volte nelle conversazioni una delle cose che so fare sono figo so trattenere il fiato per dieci minuti appena io mi ritrovai bloccato sott'acqua in quella sequenza la prima cosa che feci all'epoca fu ok aspetto dieci minuti e dopo dieci minuti lui si gonfia muore affoga e cambia anche l'interfaccia tipo i comandi sono galleggia diventa verde emetti bolle robe del genere oltretutto ho letto che dopo un po' che è successa questa cosa ti appare l'opzione per il ritrai per rifare quella scena io però non l'ho mai vista perché avevo sempre caricato il salvataggio subito una volta che è successa quella cosa quindi pensavo fosse proprio veramente un punto in cui si può morire che avevano messo così come scherzo e e vabbè che comunque dovevi proprio volerlo fare perché dovevi proprio provare a restare lì o magari perché avevi lasciato il gioco ed è andato a fare altro è anche facilissima quella scena da fare per cui è proprio fatto per chi ci prova c'è un altro punto che è quello in cui su Monkey Island puoi cascare dalla rupe e ti appare il pop up col menu ricopiato dai menu di Sierra proprio apposta e dici ah sei morto esatto così restart quit con anche la frase che ti piglia per il culo che ti dice eh vabbè sei andato a buttarti dalla rupe quando ovviamente era una roba che non potevi sapere che se camminavi lì cascavi di sotto è proprio la presa per il culo a Sierra oltretutto quella cosa leggevo nei vari attivi perché cioè le classiche cose tipo ah e ho visto che nel disegno che aveva fatto per la grafica lì c'era una crepa e ho detto ma inseriamoci sta cazzata lì dove c'è la crepa che se ci cammini sopra si spezza la roccia e cadi la locanda si chiama scum con la faccetta perché credo Mark Ferrari che faceva la grafica di quella schermata lì non sapeva che nome mettere e ha scritto scum e ci ha messo la faccetta e Ron Gilbert l'ha visto figata lasciamolo così ok ed è sicuramente pieno di ste cose fate un po' alla come capita ed è bellissimo è veramente bellissimo assolutamente e poi un'altra cosa che ho notato ieri era riguardo alla curva di difficoltà adesso che è un'altra cosa che è abbastanza figa e tra l'altro ci ho fatto caso rigiocando recentemente le versioni rimasterizzate di Day of the Tentacle e di come si dice Green Fandango come si può dire Monkey Island non si cura troppo dell'incremento di difficoltà è molto più come si dice interessato a raccontarti la storia per cui se tu arrivi nella seconda parte o almeno a me non è parso ma non c'è un livello di difficoltà così crescente anzi secondo me la parte più complessa te la succhia all'inizio e non solo la più lunga in termini sì sì nettamente Melee Island non solo è la parte più lunga il resto mi ricordo tra l'altro ricordo proprio la sensazione quando all'epoca ci rigiocavo che una volta passata Melee Island vabbè sostanzialmente l'ho finito però sì è anche quella un po' più articolata come cose da fare perché anche Monkey Island è vasto come ambiente ma ci sono molte meno schermate sì 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 ma Melee Island invece è vero perché quando arrivi su Monkey Island pensi la prima volta però caspita quindi qui c'è un'altra Melee Island però poi in realtà è molto meno complessa Melee Island ha una densità della mappa molto più spinta ci sono molte più cose da fare molto più variabili di cui tenere conto per cui in realtà il gioco in qualche modo è come se cioè già effettivamente in questo tipo di giochi delle avventure la gratificazione era la storia il proseguimento della storia e qui è come se tutta la seconda parte è vero che ha delle complessità è vero che te la devi giocare comunque però è come se ti gratificasse per lo sbattore fatto a Melee Island a questo tipo di impostazione ed è molto divertente anche il fatto che la densità dei capitoli sia diversa cioè quella è una cosa molto molto moderna e non scontata che poi secondo me nel 2 si perde un po' perché nel 2 è molto più come si dice è molto più coerente è molto più come si dice eco nella divisione del tempo di gioco tra capitoli anzi anzi addirittura nel 2 è tutta la parte più complessa è forse quando ci sono le tre isole che devi passare da una parte all'altra quindi è quella e quello è il Melee Island del 2 di contro però nell'1 c'è proprio questa cosa qui sono veramente anche capitoli che durano pochissimo ed è divertente anche quella cosa è qui perché ti prendi i contropiedi tu sei sulla nave ti aspetti ok adesso ci sarà il momento nave navigherò chiedo scusa navigherò altro sto morendo scusate ma mi è venuto proprio la il colpo di tosse del resto siamo in pandemia eh beh sì non dimentichiamoci ora ci stiamo in pandemia comunque dicevo c'è proprio anche questa cosa qui poi invece sulla nave fai 4 cazzate si dice le ali e tutto così però poi alla fine l'altro molto divertente è che è la ricetta per monchiare anche il modo in cui è gestita questa cosa qui non c'è una mappa ma c'è proprio una ricetta ed è molto bello è bello questa cosa è bello il fatto che il livello di difficoltà non sia poi come in altre avventure anche più moderne ma anche appena venute dopo è molto più eh classica la curva di difficoltà e poi c'è anche questa cosa che eh in monkey island a un certo punto scusate ma sto morendo evidentemente eh a un certo punto ci sono anche molte situazioni in cui viene eh non quasi azzerato ma viene adattato diciamo così il bagaggio di oggetti e di cose da fare per cui a un certo punto ti mette in situazione di avere meno cose e quindi meno scelte e quindi una risposta più facile alle cose cioè in qualche modo viene ci sono dei momenti in cui un po' l'avventura viene quasi resettata per potertela rendere più agevole e anche questa cosa qua è molto molto divertente è molto comoda e contribuisce moltissimo alla dolcezza del ritmo di gioco sì 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 assolutamente cioè non è banale perché davvero in adesso non ce l'ho freschissimo però mi sembra di ricordare che in day of the tentacle non fosse così cioè che tu arrivavi comunque alla fine eh portandosi dietro il grosso delle cose quindi avendo per ogni situazione molte più declinazioni possibili e quindi molti più margini di errore possibile sì qui no qui a un certo punto quando arrivi in un punto te la fa fare un po' più facile ma va bene nel senso perché comunque in realtà anche in questo è molto moderno non te la vuole buttare al culo con gli enigmi vuole effettivamente che tu ti diverta che ti diverta in seno alla storia che si sta raccontando ed è una bella cosa sì sì assolutamente e devo dire che di nuovo a testimonianza di come sia secondo me accogliente o di quanto io mi trovi in sintonia forse mentre altre avventure punte clicca dell'epoca che all'epoca trovai facili palesemente il caso per esempio di benita still sky che ricordo comprai e finì letteralmente in un pomeriggio ci ho rigiocato poi quando è uscito su smartphone e feci fatica dovetti guardare la soluzione qua e là perché non sono più allenato a quella forma mentis da punte clicca con gli enigmi e i pazzo suppongo o mi sono rincoglionito c'è anche questa opzione però credo sia anche soprattutto che non sono più allenato e anche le avventure punte clicca a cui gioco adesso quelle nuove non hanno quell'impostazione lì ecco invece Monkey Island rigiocandoci oggi l'ho trovato altrettanto liscio cioè magari mi sono ricordata che alcune cose me le ricordavo però non è che mi ricordassi tutto e l'ho trovato sicuramente mi ricordavo di dover aprire la scatola dei cereali ma l'ho trovato altrettanto liscio mentre appunto altri giochi dell'epoca ci gioco oggi e li trovo più più tosti e anche questo secondo me è testimonianza della sua modernità e del suo comunque non voler rompere le palle al giocatore ma volerlo far divertire al di là che poi magari anzi sicuramente c'è una certa percentuale di semplicemente io che sono in sintonia con la forma mentis con cui strutturavano gli enigmi loro in quel gioco ecco bene c'è altro perché insomma direi che abbiamo ampiamente sviscerato l'argomento secondo me tu dovresti menzionare la cosa del matrimonio ah sì quella è stata molto divertente che quando non me la ricordavo ma probabilmente perché all'epoca della prima volta che ci ho giocato tante volte non avevo ancora visto il laureato infatti credo che l'ho rivisto poi alla fine dei superiori però c'è questa cosa gustosa che quando entra in scena Guybrush per diciamo così interrompere il matrimonio il presunto matrimonio perché poi in realtà la sposa sono due scimmie e anche lì ma che scelta che scelta sballata è che sono due scimmie che hanno loro la birra di radice cioè lei poteva calarsi l'etene ma anche lei è matta cioè anche lei comunque è una sballata ed è quello che è divertente cioè ogni personaggio è sballato vabbè comunque arrivi dentro e tra le scelte possibili c'è quella ovviamente di gridare Elaine come quando Dustin Hoffman è laureato alla fine entra in chiesa da dietro inizia a gridare Elaine e quando dice c'è qualcuno che può che è contare questo matrimonio lo interrompe che è sì come dicevi è la scena classica dell'interruzione delle nozze però è anche un momento di cinema molto molto noto molto comune con la scrittoria infatti ho notato la cosa ho detto ah però che storia proprio come nel e poi ho letto che effettivamente il nome Elaine è stato dato in seguito a questa scena cioè quando hanno concepito questa scena Dave Grossman aveva proposto di fare la parodia della scena del laureato e Gilbert ha detto ah figata chiamiamola Elaine esatto e lei in Marley poi vabbè per Bob Marley perché è caraibico il gioco e ha comunque quel tipo di approccio di reggae voodoo diciamo così e poi vabbè anche le musiche sono effettivamente in quattro quarti in levare mi sembra quindi ha quella roba lì ed è stato divertente perché non me ne ero mai accorto così sono quei dettagli che quando noti più avanti però in realtà mi è successo anche in altre situazioni in altre gag di cogliere sensi che magari dai ragazzi non avevo un bagaglio diciamo pop meno ampio per cui avevo visto meno film avevo letto meno cose perché meno cose mi sono arrivate però questa è stata quella forse più clamorosa sì probabilmente sì come lei Robinson e beh basta sì non ho niente altro da dire se non che è stato veramente delizioso rigiocarselo dopo tanto tempo e non è stato vecchio non è stato non è stato neanche retro gaming quasi per certi versi nel senso che non era fresco era un gioco che potevo giocare oggi sì alcune alcune scelte grafiche alcune composizioni sono un po' vittima dell'hardware del taglio del tempo però insomma nel complesso in altre situazioni sono stato veramente sorpreso cioè anche dal numero di animazioni dal colore da situazioni che ricordavo molto più statiche addirittura sì 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 no assolutamente non c'è quel fastidio e quella scomodità che c'è giocando a tanti altri giochi di quegli anni o anche successivi per cui insomma va bene direi che possiamo chiudere qua grazie per l'ascolto l'appuntamento è fra una settimana come avevo già annunciato la scorsa settimana il insomma il gioco protagonista del podcast che vi proporremo la prossima settimana sarà Super Meat Boy che il 20 ottobre compie 10 anni quindi entra nel club di quelli che riteniamo copribili nella nostra parte più retro di Outcast non ci sarai tu ci sarà Antonio Bellotta con tra l'altro un esordio su Retro Outcast partecipa anche Pacione e niente parliamo di Super Meat Boy e quindi appuntamento a fra una settimana circa ciao ciao